Sala stampa del Centro Sportivo del Napoli a Castelvolturno, facciamo un'intervista dal vivo questa volta ed è grande piacere ritrovare il grande Gianfranco Lucariello. Gianfranco, siamo nella casa del Napoli dove Mazzarri spesso e volentieri fa vedere i video degli avversari della squadra. Qui possiamo vedere anche la Lavagna dove studia la tattica, quindi è un Napoli che va verso Parma-Napoli, sarà sicuramente una sfida importante e complicata. Vedi che ha cancellato tutto proprio per non lasciare tracce in giro a proposito della partita con il Parma che poi è una gara molto molto particolare e difficile. Non dimentichiamo che qualche anno fa c'è stata quasi una rissa tra i giocatori del Parma e quelli del Napoli. E ancora prima, tornando indietro nella memoria, c'è quel Parma-Napoli dove c'è Fabio Cannavaro con taglia la tela, insomma brutti ricordi. Bisogna sfatare un po' questo campo che è storicamente difficile. No, tanto per mettere una buona parola, abbiamo ricordato queste cose, ma credo che sul campo sarà sicuramente combattuta. Poi con l'allenatore che loro si ritrovano, Guido Lin, sta facendo un ottimo lavoro, ha riportato il Parma in Serie A, non solo. Adesso si sta appiando delle soddisfazioni straordinarie. Teniamo presente però che sulla pagina del Napoli c'è un toscanaccio che in settimana abbiamo visto quello che ha detto. Certo, le critiche non gli fanno sempre piacere. In qualche circostanza poi ha reagito proprio per questo fatto. Il Napoli ha giocato bene, ha giocato male. Ci riferiamo naturalmente alla partita con lo Lazio. È sorto qualche equivoco probabilmente e appunto certe osservazioni non gli hanno fatto piacere. Però dobbiamo perdere avanti. Vediamo se riusciremo a scrivere bene del Napoli anziché di quello che abbiamo scritto, contrariamente a quello che abbiamo scritto con la Lazio. Perché a me, anche se l'allenatore ha precisato, ha detto il secondo tempo, è bello, è bellissimo. Non ha detto bellissimo. Non ci siamo perché poi le virgolette... Napoli ha giocato bene. Io ho visto un'aggressività diversa, grinta, però insomma come a tanti napoletani, penso e a tanti colleghi, il Napoli non è piaciuto. Questo lo dobbiamo dire. Però darsi a Parma fa risultato bene e quindi ci mettiamo a posto. Indubbiamente quello che piace del Napoli è sicuramente il trend positivo da quando è arrivato Mazzari perché sei partite non si è perso. Questo è sicuramente un dato importante, però nelle ultime due gare c'è stata una flessione, giustamente evidenziamo un aspetto, quello che sono mancati i gol. C'è un problema in attacco perché molti dicono Quagliarella è servito male, Quagliarella non ha trovato ancora il giusto feeling con i compagni di reparto. Tu come la vedi? Esattamente così. Credo che l'inserimento di Quagliarella, al di là delle condizioni fisico-atletiche personali, che lui è rimasto nel Club Italia, quindi il ritiro l'ha iniziato in ritardo. Ci sono una serie di problematiche, compresa la caviglia, che gli dà fastidio. Quindi non abbiamo visto il migliore Quagliarella. Poi si è inserito in una squadra comunque nuova, una squadra poi atipica per le caratteristiche dei giocatori che sono lì davanti. Pichiamo Lavezzi. Lavezzi è un anarchico. Bisogna accettare quello che lui può dare sotto questo profilo. È un giocatore che fa delle cose incredibili con il pallone, però ha un grosso problema, che è quello che non conclude. Lui lo stesso l'ha riconosciuto e ha detto che deve migliorare. Poi abbiamo un centrocampista che non è un centrocampista più, perché Amasic è stato il capocannoniere del Napoli, crede, l'anno scorso. Eppure quest'anno è con sette reti. Quindi Mazzari deve risolvere certi problemini. Chiaramente quando la squadra va a mille, tutte queste cose non si notano, non si vedono. Però quando si trovano poi degli avversari come la Lazio, come il Catania, che non ti fanno giocare, che assumono il Catania, il predominio del pallone, vogliono fare risultati di tutti i costi, il Napoli chiaramente va in difficoltà. Queste difficoltà le abbiamo viste anche con la Lazio. Questo non significa chiaramente che Quagliarella adesso viene messo da parte, che deve andare in panchina come qualcuno addirittura ha detto, perché è un patrimonio del Napoli e bisogna spingere per cercare di far rendere al massimo il bomber del Napoli. Manca il gol, però insomma un modo si deve trovare, perché se Amsic ha segnato diversi gol, sette, ma anche gli altri, insomma, a fin dei conti ci sono arrivati a questo bottino. Bisogna trovare la via giusta per farli rendere al massimo tutti. Guarda, uno dei tanti problemi è che in certe occasioni noi giornalisti ci vogliamo sostituire al tecnico. Questo è un problema di Mazzari a chi far giocare, perché chiaramente allora chi tira per Denis facciamo giocare, ma questo non soltanto tra i colleghi, ma anche nell'opinione pubblica. Ci sono dei tifosi che dicono no, deve giocare Denis, Quagliarella, deve andare in panchina. L'allenatore invece credo che stia insistendo per Quagliarella, perché lo vuole portare al massimo della condizione fisica e poi si sa che giocando con i compagni si raggiunge comunque un'intesa. Non voglio assolutamente pensare al fatto che ci sia una volontà negativa di non passare la palla a Quagliarella. Anche se, insomma, il giocatore, l'abbiamo visto, domenica non è che ha avuto chissà quali passaggi. Manca un gioco in profondità, sta palla sempre laterale, tic e toc tu a me, io a te e poi dietro. Poi ricominciamo a girare. Diranno, ma la Lazio si chiudeva dietro. Sì, però non c'è stata mai una palla in profondità, a rasodere come piace a Quagliarella. Ecco, bisogna capire anche le caratteristiche dei singoli e cercare di attuare. Ma questo è un compito rispetto a Mazzarri. Noi perché ci dobbiamo vogliare questo peso sulle spalle? Noi però guardiamo alle ultime due cose. Ovvero a Parma-Napoli dicevamo una sfida difficile. Certo, se il Napoli dovesse andare lì a fare il risultato sarebbe una cosa importante, anche forse per istituire la giusta serenità. Abbiamo visto Mazzarri forse un po' preso in settimana perché gli è dispiaciuto come è stato interpretato nel post-gara dopo la Lazio. Tutto sommato è una gara da affrontare a viso aperto e poi Mazzarri non vuole parlare di obiettivi. Noi invece lo facciamo perché Napoli è una piazza importante e l'Europa deve essere il traguardo minimo. Io credo che l'obiettivo proprio societario l'ha fissato il Presidente quando ha detto che lui voleva andare in Europa. Addirittura aveva detto nei primi sei, forse in qualche circostanza si è sbilanciato anche un pochino in più, però classificarsi nei primi sei con questo Napoli, ma senza attribuire delle responsabilità, è una valutazione poi mia personale, un'opinione, insomma il Napoli ci sta tutto nelle prime sei. Solo che Mazzarri mi pare che abbia detto nella conferenza stampa di martedì scorso che lui vuole avere una conoscenza totale della squadra, dei giocatori, delle caratteristiche, dei modi di essere, proprio per arrivare a tirare poi un consuntivo, a tracciare un consuntivo. E' chiaro che anche lui non lo vuol dire apertamente, ma è l'obiettivo che lui vuole perseguire. D'altra parte dice ogni partita per me è una finale. Dobbiamo dare gli atti che comunque una trasformazione al Napoli la data è come. Tanto è vero che le partite importanti contro Milan, Juve, la stessa Fiorentina, insomma ci hanno dato delle grosse soddisfazioni. Solo che noi vogliamo vincere tutte le partite. E ora ci sta questa col Parma, che è una partita delicata. Il Parma però è una squadra che fa giocare micidiale in contropiede. La Fiorentina è stata una vittima proprio di questo tipo di strategia. Quindi dobbiamo vedere poi Mazzarri come ha preparato la squadra e come il Napoli affronterà un avversario di questo calibro, di questa caratura. E allora dal centro sportivo del Napoli con il grande Gianfranco Lucariello è tutto. E proprio a Gianfranco a questo punto, come sempre, chiediamo il tuo saluto ai tifosi che ci stanno seguendo. Beh, che altro posso dire se non portiamoci sempre il Napoli nel cuore, ma è una cosa che già fanno tutti quanti. Andiamo avanti in Europa, ci arriveremo.